Don Benzi è stato l'uomo della solidarietà e della speranza. Un mese fa hanno introdotto la causa di beatificazione. Come l'hai conosciuto Don Benzi? Don Benzi l'ho conosciuto sulla strada perché attraverso un incontro nel 97 lui dopo questo incontro pubblico mi invitava ad andare con lui a incontrare quelle che lui chiamava le sorelline. All'epoca tutto potevo immaginare che queste erano le donne schiavizzate quelle che lui incontrava tutte le notti proprio cercando di convincerle a uscire da quel dramma.